Piccoli scaravaggi fa un caldo bestiale ma non potevo non condividere con voi queste mail che mi è arrivata da Acustica Audio. Acustica Audio la conoscete, fa dei plugin eccezionali, costano anche un po' di soldi e hanno messo gratis una versione di Room. Room praticamente è un plugin, si chiama Sienna in realtà, ma Sienna comprende Reference, Room e Guru. Sienna è quello di cui si parla da un po' di mesi che è quello che ti permette l'ascolto lineare in cuffia, ti corregge le cuffie in maniera lineare, in modo da darti un ascolto non falsato. Praticamente Room invece, che è una parte che sta lì dentro del plugin, ti simula degli studi di registrazione attraverso la linearità delle cuffie. Loro questo te l'hanno messo gratis fino ad ottobre, quindi vai sul sito di Acustica Audio, ti scarichi il loro programma che si chiama Aquarius, che ti permette di scaricarti poi e comprare il loro plugin, quindi ti prendi questa bella versione free di Room, che comprende una Room e comprende 180 tipi di cuffie e niente, gratis fino a ottobre. Non ve lo perdete ragazzi, perché secondo me vale la pena sperimentarlo e provarlo e noi ci vediamo presto. Pollice!